Non ci saranno più le divisioni a colori, non si riunirà più il CTS e l'uso delle Green Pass sarà gradualmente messo da parte. Primi passi verso la normalità per l'Italia che dal 1 aprile riapre, torna tutta in bianco e con un percorso a tappe punta ad un periodo estivo senza nessun tipo di restrizione. Queste le principali novità contenute nel nuovo decreto del 17 marzo sulle regole Covid approvato dal Consiglio dei Ministri. A partire dal mese prossimo i over 50 potranno tornare al lavoro senza rispettare l'obbligo di vaccinazione, ma dovranno comunque avere un tampone antigenico o molecolare negativo. Fino al 31 dicembre rimane invece l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e per chi lavora nelle RSA. Dal 1 aprile si entrerà senza Green Pass in ristoranti e bar all'aperto, festa all'aperto, cerimonie, alberghi e strutture ricettive. Rimane invece fino al 15 aprile l'obbligo di Green Pass rafforzato nei ristoranti e bar al chiuso. Dal 1 maggio poi non ci sarà più alcun obbligo e il Green Pass verrà sostanzialmente archiviato. Dal mese prossimo non servirà più la certificazione verde per salire su autobus, metropolitane, tram e tutti gli altri mezzi del trasporto pubblico locale. Bisognerà però indossare la mascherina FFP2. Dal 1 aprile per prendere aerei, treni e navi bisognerà mostrare almeno il Green Pass base e indossare la mascherina FFP2. Anche in questo caso dal 1 maggio non ci saranno più obblighi. Novità anche per stadie e discoteche che torneranno alla capienza del 100% e per gli eventi all'aperto non servirà la certificazione verde. Niente più Green Pass nemmeno per negozi, parrucchieri, barbieri, estetisti, uffici pubblici, banche, sport all'aperto, centri termali, sagre e fiere. Dal 1 aprile poi stesse regole per tutti sulla quarantena senza distinzioni tra chi ha fatto il vaccino e chi no. Addio quarantena e quindi anche per i Novax. A seguito di contatto con un caso positivo al Covid dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratti il virus. Mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza. Il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi.